Bentornati raga, qua è Savix che vi parla ragazzi Oggi vi porto una nuova duplicazione ragazzi ultra massiva Se ieri vi ho portato la duplicazione una ogni 40 secondi o un minuto Oggi la faremo ogni 30 secondi ragazzi Quindi partiamo con i requisiti, si servirà la base operativa piena di veicoli ragazzi Un amico che ci dà una mano e dobbiamo possedere una moto con due posti Dopodiché ci servirà anche il com raga con il deposito veicoli al terzo slot Ci servirà il garage dell'attico di lusso con all'interno la ISI ragazzi E un veicolo per poter fare il glitch che non perderete A questo punto ci servirà anche il night perché useremo lo speedo custom per baggarci e farlo Ultra massivo ragazzi Quindi iniziamo con il glitch ma prima sigla Se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati Non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen regà E se siete giocatori di Playstation trovate in descrizione gruppi anche per Playstation ragazzi Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube E adesso al nuovo video Quindi regà iniziamo con il glitch Vi richiedete dal motorcycle o da dove volete la moto, una qualsiasi moto che abbia due posti A questo punto salite sulla moto, fate salire anche il vostro amico E vi andate a dirigere dalla base operativa che deve essere piena di veicoli ragazzi A questo punto una volta che siamo in questo messaggio perché la base è piena Gli diciamo al nostro amico regà di andare nello switch di Franklin In quello per andare storia e rimanere in quella schermata Noi a questo punto torniamo indietro, scendiamo dal veicolo, lo mandiamo al deposito regà Dopodichè gli diciamo al nostro amico di schiacciare B e scendere poi dal veicolo A questo punto il nostro veicolo despaunerà e lui si sarà vagato nella maniera corretta A questo punto ragazzi non ci resta altro che andare al casino Una volta che siete arrivati al casino non vi resta altro che richiedervi il vostro come ragazzi Fatelo subito se no poi non potete richiamarlo dopo E vi richiedete il vostro speedo custom Una volta che lo speedo custom sarà spawnato gli dite al nostro amico di entrarci e salire nel lato guidatore Una volta che il veicolo sarà acceso regà noi lo manderemo al deposito E come potete vedere rimarrà all'interno dello speedo il nostro amico Facendo questo ragazzi andiamo a bypassare tutti i passaggi delle moto con il motocycle E il glitch sarà una bomba ancora più veloce A questo punto possiamo entrare dentro il garage idattico di lusso e andare effettivamente regà a duplicare il veicolo A questo punto regà non ci resta altro che andare a prendere la nostra easy e la andiamo a mettere nel solito posto Sbattendola nella colonna A questo punto scendiamo dalla easy e andiamo a prendere la nostra LG ragazzi Che ci servirà per coprire la portiera e la andiamo a mettere a fianco Adesso se volete potete fare il test schiacciando triangolo o y per vedere se vi teletrasporta dentro la easy A questo punto chi gioca da xbox deve schiacciare y e x ragazzi praticamente assieme Prima y chi gioca da play dovrà schiacciare triangolo x prima triangolo Quindi a questo punto non ci resta che andare vicino al nostro amico regà e chiamare il veicolo che dobbiamo sacrificare Una volta che vi siete richiamati il veicolo io userò deluxo così la mia easy poi varrà 3.800.000 ragazzi Solo con le deluxo aggiunte non le deluxo che vi duplicate normalmente E quindi a questo punto aspettiamo 5 o 10 secondi Quando la minimappa del nostro amico flipperà gli diciamo di scendere E a quel punto la nostra targa cambierà E quindi spada bam regà avremo fatto la easy con la targa diversa in 30 secondi Se volete continuare a duplicare ragazzi dovete ripetere l'ultimo step Quindi uscite dal com e semplicemente richiamate lo speedo e riduplicate ragazzi Questo glitch è una bomba e massivo Approfittatene più che potete ragazzi Fatevi degli account, dei garage, riniziate GTA Fate quello che volete perché è veramente OP Io spero che i miei video vi piacciono Raga lasciate un like, lasciate un commento Supportate Xavix Commentate, condividete Fate un po' quello che volete Iscrivetevi quella è la cosa più importante ragazzi Quindi io spero che i miei video vi piacciono E alla prossima Bella regà Ciao Ciao